Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Ormai la tendenza che sto adottando è quella di trattare argomenti un minimo filosofici che abbiano comunque un riscontro a livello psicologico anche sulla base delle mie personali esperienze, ma perché no anche delle vostre, cercando di creare un confronto, diciamo così, di far esaltare le parti più positive e belle della nostra mente. L'argomento di oggi è quello che probabilmente avevo fatto emergere sul canale più volte, ovvero le maschere sociali. Noi impariamo con la scuola a conoscere un po' questo concetto grazie a Pirandello. Ognuno di noi ha molte maschere che ci contraddistinguono in base agli eventi che viviamo nella vita, si evolvono, si modellano in base al nostro vissuto, alle nostre esperienze, però noi adottiamo effettivamente le maschere anche a seconda del contesto sociale in cui ci troviamo. Quindi magari a scuola siamo in un modo, a casa, chiaramente nella nostra intimità siamo probabilmente la figura più vicina a noi stessi, che realmente ci appartiene, insomma. Anche se conoscere se stessi mi ha insegnato in qualche modo Rick Duferre, ve lo consiglio tantissimo su YouTube, questo filosofo divulgatore. Conoscere se stessi non è mai troppo positivo, perché chi ha conosciuto realmente se stesso ha commesso atti all'estremo dell'umano, quindi insomma sempre bene essere distaccati dal nostro io interiore con la giusta professionalità mi verrebbe da dire. Però ritornando sul concetto delle maschere sociali, noi per paura anche di essere giudicati, per paura di sentirci inferiori o sottomessi agli altri, perché magari appunto diciamo, caspita io però non sono all'altezza, devo far vedere che anch'io sono in grado, sono capace di far ridere, di dimostrare qualcosa di figo di me, e allora viene fuori la goliardia all'interno dei gruppi di amici, benché essi siano contesti comunque sempre ristretti, quindi tranquilli, non si è di fronte a un pubblico, però sicuramente si cerca di passare bene davanti all'amico, di fare una cosa figa che ci garantisca l'approvazione. E non c'è cosa più sbagliata che commettere cose che vanno contro la nostra morale, i nostri principi per far piacere a un gruppo, per far piacere a una persona. Quindi l'importanza di essere se stessi comunque, di adempiere, c'è una luce, madonna, di adempiere ai nostri principi, insomma, in maniera adeguata, è quello che più ci dovrebbe contraddistinguere, cioè perseguire una strada sulla base della nostra educazione e di quello in cui crediamo davvero, perché se ci lasciamo influenzare dal contesto, troppo, aggiungerei, si rischia di non riconoscersi più poi alla fine. E' una riflessione che meriterebbe tantissimo spazio, secondo me, però per l'appunto i miei video si caratterizzano per una breve durata, quindi non vorrei effettivamente dilungarmi troppo, anche se è un argomento che a pensarci bene, caspita, è importante perché fa parte della nostra vita, di tutti i giorni, della nostra quotidianità, di conseguenza merita una riflessione. Insomma, ormai mi sto un po' dilungando, no? Però ve lo porto volentieri a un argomento del genere, perché comunque trattasi di esperienze di vita. Alla fine uno, per esempio, va su un palco, come mi è successo a volte a me, magari per progetti scolastici, e si crea uno scudo, un mix di orgoglio, di io so, quindi do spettacolo, fra virgolette, tratto un qualcosa che mi riesce bene, e quindi ok, abbiamo bisogno anche di questo, a volte, di sentirci bene e comodi in un determinato settore in cui si opera. Però la vita ci pone di fronte a un sacco di ostacoli, e quindi non possiamo sempre avere tutte le comodità del caso a disposizione. E da lì viene la capacità di adattamento. Insomma, spero che questo video vi sia piaciuto, spero di aver scaturito in voi una riflessione, e ci vediamo alla prossima.